Amici di MoltoFood, oggi voglio svelarvi i trucchi per un uovo in camicia perfetto al primo colpo. Mettiamo a bollire l'acqua in un pentolino. Nel frattempo apriamo l'uovo in una tazza e lo lasciamo da parte. Saliamo l'acqua, aggiungiamo un cucchiaino d'aceto e creiamo un vortice in questo modo. L'acqua dovrà sobollire e il fuoco dovrà essere medio-basso. Dopo aver fatto scivolare al centro l'uovo, lo lasciamo lì senza muoverlo per 4 minuti. Poi lo tiriamo fuori e lo adagiamo sul pane tostato completando con olio evo e pepe.